Sono Michele, il direttore del giornale Vettiche di Amalfi Online. Oggi ho completato i giornalini tutti da solo, anche perché la mia fidanzata, la mia vice responsabile è momentaneamente estende per problemi familiari, ma dico che sono stato contento di aver fatto tutto io e di aver dato una mano costante oggi. Sono felice oggi, ringrazio e la saluta adesso dov'è, e vi auguro anche a lei un buon appetito, anche se in un luogo non appetibile. Comunque, forza e coraggio e col pugno di ferro. Siamo col pugno di ferro. Allegria, allegria, buona giornata.